Il nostro servizio di retina medica dell'ospedale San Giuseppe è entrato a far parte dei centri europei d'eccellenza per quanto riguarda la ricerca clinica nelle patologie retiniche. Per questo partecipiamo a diversi studi e in particolar modo vorrei menzionare un progetto di ricerca chiamato Recognize che è stato finanziato dalla comunità europea nell'ambito del Horizon 2020 che valuterà la correlazione tra la retinopatia diabetica nei pazienti con il diabete melito di tipo 2 e il deficit cognitivo precoce o la demenzia. Attraverso la valutazione del fondo oculare con le nuove metodiche diagnostiche noi riusciamo a individuare dei parametri che sono un segno del danno precoce a livello del cervello quindi deficit cognitivo e in questo modo potremo valutare se ci sono le possibilità di nuovi target terapeutici. Se lei ha il diabete melito di tipo 2 e ha almeno 65 anni e ha i segni iniziali di retinopatia diabetica può entrare a far parte di questo progetto di ricerca clinica in tal caso può rivolgersi direttamente a noi al servizio di retina medica dell'ospedale San Giuseppe. Grazie